Saranno così le abitazioni del futuro? I grattacieli si muoveranno? Nino Mustica li immagina così grattacieli alti circa 80 piani che si muovono non solo in rotazione ma che si spostano contemporaneamente avanti e dietro ogni piano inoltre può muoversi indipendentemente dall'alto la Mustica Tower non è solo un sogno o un'idea visionaria è qualcosa di più un progetto che verrà lanciato in autunno in tutto il mondo coperto da un doppio brevetto internazionale un'idea nata dalla collaborazione tra il pittore siciliano e una società di ingegneria la Motor Power Company specializzata nella realizzazione di motori di rotazione ogni piano verrà colorato in modo diverso secondo studi di pittura applicata all'architettura si può parlare di nuovo futurismo a mio avviso è il nuovo futurismo così come nel secolo scorso i primi del novecento è nato il futurismo credo che oggi la tecnologia ci invita a rappresentare un nuovo futuro perché un pittore si dedica a queste ricerche la pittura attraversa tutte le atti tutte le atti sono in collegamento eccetera l'altro questa è una lezione rinascimentale il pensiero trasla così come traslano questi miei volumi e traslano per potersi avvicinare in questo caso e non allontanarsi traslano come pensiero come concetto via attraversamento